Sotto la camicia nascondeva un'attrezzatura degna di un agente segreto, cellulare, trasmittente e telecamera. Sperava così di ottenere la patente, pur non avendo studiato la teoria, ma è stato scoperto e denunciato per truffa. Protagonista dell'episodio, un 25enne del Pakistan residente a Kaltaninsetta, che la polizia stradale di Arezzo ha sorpreso con la sofisticata strumentazione ben nascosta sotto la camicia. Il giovane, per inquadrare meglio i quiz ed inviare poi l'immagina di un complice, aveva addirittura tolto un bottone alla camicia. Dietro quel buco c'era l'occhio della telecamera, ma i suoi movimenti sospetti non sono passati inosservati e gli ispettori della motorizzazione così non hanno impiegato molto a smascherarlo, avvisando la postrada. Oltre alla denuncia, ovviamente il 25enne è stato bocciato all'esame. I poliziotti che adesso stanno cercando i suoi complici inoltre hanno sequestrato la camicia e tutta l'attrezzatura utilizzata per il raggiro.